Hai bisogno di un modo semplice, per registrare il tuo schermo mobile Vuoi fare una demo di, un'applicazione per dispositivo mobile Hai bisogno di, Screencast Usa Screencast con My Screen Recorder, per registrare il tuo schermo mobile In Screencast selezionare il metodo, di connessione e premere Start Broadcasting In My Screen Recorder, fai clic su Registra per, visualizzare le opzioni Abilitare l'opzione Registra, Schermo mobile e selezionare Configura Quindi copia l'idea password, dall'applicazione Screencast Seleziona Connetti e guarda lo schermo, del tuo cellulare apparire sul tuo PC Ora puoi realizzare la tua presentazione con, My Screen Recorder e registrare lo schermo del tuo, dispositivo mobile sul PC desktop Utilizzare questa combinazione di tasti, di scelta rapida per nascondere o visualizzare, lo schermo del cellulare È possibile modificare la sua posizione, sullo schermo del PC mentre la, registrazione è in corso È inoltre possibile avviare, mettere in pausa e interrompere il processo, di registrazione utilizzando i tasti di scelta rapida Sembra abbastanza facile, non credi Scarica Screencastora dal, Google Play Store Scarica e installa My Screen Recorder da, www.deskshare.com Grazie